Educare alla custodia e all'amore per il creato, questo è il tema dell'incontro di ieri sera presso la Caritas Diocesana di Taranto. Monsignor Santoro, arcivescovo di Taranto, ci spiega come sia possibile poter coniugare l'amore religioso con l'amore per il nostro ambiente. La produzione dei beni si deve armonizzare con la vita, il mantenimento della vita, il mantenimento della famiglia, il mantenimento della cultura. Quindi tutto il lavoro che la Caritas sta facendo è proprio quello. Prima di tutto questa cosa l'odevolissima che a chi non ha niente si offre il necessario, il minimo indispensabile per la vita. Quello che Papa Francesco ci dice è un'equa distribuzione dei beni, non ci può essere chi spreca tanto e chi non ha il minimo necessario per vivere. Una cultura dell'incontro, del dialogo e del giusto equilibrio nell'esistenza.